E così me ne andai in America, dove vivo ormai da trent'anni. Quando arrivai terminei gli studi superiori e poi mi iscrissi ad Harvard alla facoltà di legge. La sola idea mi ripugnava, volevo diventare un poeta, ma il cugino di mio padre non era disposto ad ascoltare simili sciocchezze. La poesia, la poesia, diceva. Credi di essere un secondo Schiller? Sai quanto guadagna un poeta? Prima studia legge, poi nel tempo libero potrai scrivere tutte le poesie che vorrai. E così studiai legge. A venticinque anni divenni avvocato e sposai una ragazza di Boston da cui ho avuto un figlio. Nel mio mestiere me la sono cavata piuttosto bene, anzi molti sarebbero disposti ad affermare che sono un uomo di successo. In apparenza non si potrebbe dare loro torto. Ho tutto quello che ci vuole, un appartamento che si affaccia su Central Park, delle automobili, una casa di campagna, senza contare che sono socio di parecchi club ebraici e via dicendo. Ma io non la penso così. Non ho mai fatto quello che mi sarebbe piaciuto fare, scrivere un buon libro e un'unica bella poesia. All'inizio mi mancava il coraggio di mettermi all'opera perché non avevo soldi, ma ora che i soldi li ho il coraggio mi manca ugualmente perché non ho sufficiente fiducia in me stesso. È per questo che, in fondo al cuore, mi considero un fallito. Non che questo importi molto, subspecie eternitatis, tutti noi, senza eccezione, siamo dei falliti. Non ricordo più dove ho letto che la morte intacca la nostra fiducia nella vita, mostrandoci che in fin dei conti tutto è ugualmente futile se visto il rapporto alle tenebre che ci attendono. Sì, futile è la parola esatta. Eppure non posso lamentarmi, ho più amici che nemici e ci sono momenti in cui quasi sono felice di essere al mondo, quando guardo il sole che tramonta o la luna che spunta o vedo la neve sulla cima delle montagne. Ci sono anche altre compensazioni, come quando riesco a esercitare la mia influenza a favore di una causa che considero giusta, sia essa l'eguaglianza razziale o l'abolizione della piena capitale. Sono felice di aver raggiunto una buona posizione finanziaria, perché essa mi ha permesso di aiutare gli ebrei a costruire Israele e gli arabi a sistemare qualcuno dei loro profughi. Ho persino mandato dei soldi in Germania. I miei genitori sono morti, ma per fortuna non sono finiti a Belsen. Un giorno un nazista ricevette l'incarico di piazzarsi fuori dalla porta dello studio di mio padre, con un cartello su cui era scritto «Tedeschi, attenti, evitate gli ebrei, chiunque avrà che fare con un ebreo sarà rovinato». Mio padre allora indossò l'uniforme da ufficiale, gli appuntò tutte le sue decorazioni, tra cui la croce di ferro di prima classe, e andò a mettersi di fianco al nazista. Questi aveva l'aria sempre più imbarazzata, mentre pian piano si radunava attorno a loro una piccola folla. All'inizio la gente rimase in silenzio, ma man mano che il numero dei presenti cresceva, cominciavano a udirsi dei borbottii, che si trasformarono ben presto in grida di scherno. L'ostilità era diretta al nazista, tanto che questi poco dopo pensò bene di andarsene. Non tornò più e ne fu sostituito. Trascorsi alcuni giorni mentre mia madre dormiva, papà aprì il gas. Fu così che morirono. Da allora ho fatto il possibile per evitare qualsiasi rapporto con i tedeschi, e non ho più aperto neanche un libro scritto in tedesco, nemmeno Holderlin. Ho cercato di dimenticare. Come era inevitabile, alcuni tedeschi hanno incrociato la mia strada. Brave persone che erano finite in prigione per essersi opposte a Hitler. Tuttavia, prima di stringere loro la mano, mi sono sempre informato sul loro passato. Bisognava fare attenzione prima di concedere la propria fiducia a un tedesco. Come si fa a essere certi che l'uomo con cui si sta parlando non abbia immerso le mani nel sangue dei vostri parenti o amici. Nel caso delle persone a cui accennavo prima, tuttavia, non esistevano dubbi in proposito. Nonostante l'attività svolta a favore della resistenza, capitava spesso che fossero tormentati dai sensi di colpa, cosa di cui mi dolevo. Ma anche con loro fingevo di avere qualche difficoltà a parlare tedesco. È una specie di facciata, che adotto quasi, ma non del tutto inconsciamente, quando devo parlare con un tedesco. In realtà mi esprimo ancora perfettamente, accento americano a parte, ma non amo servirmi della mia lingua d'origine. Le mie ferite non si sono ancora rimarginate, e ogni volta che ripenso alla Germania è come se venissero sfregate con il sale. Un giorno incontrai un uomo che veniva dal Wittenberg e gli chiesi che n'era di Stoccarda. È stata distrutta per tre quarti, rispose, e il Karl Alexander Gymnasium? È stato ridotto a un cumulo di macerie. E il palazzo degli Heavensels? Anche quello. Scoppiai a ridere, senza riuscire a fermarmi. Perché tanta ilarità? Mi domandò l'uomo stupefatto. Non vedo cosa ci sia di tanto comico. Non importa, ribattei. È vero, non c'è niente di comico. Cos'altro potevo dirgli? Come fare a spiegargli perché ridevo se io stesso non riuscivo a capirlo?